E l'Unità di Epatologia di Casa Sollevo della Sofferenza ha presentato un progetto che prevede l'eliminazione dell'epatite C nella popolazione generale. Obiettivo del progetto? Informare, sottoporre a screening ed eventualmente prendere in carico per il trattamento i pazienti che saranno ricoverati nell'ospedale di San Giovanni Rotondo nel corso del 2020. A Teleradio Padre Pio, Alessandra Mangia, medico responsabile dell'Unità di Epatologia e coordinatrice del progetto. Abbiamo varato questo progetto che implica la valutazione dell'anticorpo anti-HCV nei soggetti di età di 45 anni o più che si ricoverano in qualsiasi reparto dell'ospedale durante il 2020 e che verranno sottoposti al test per l'anti-HCV. Nei pazienti positivi verrà effettuato lo screening ulteriore e ai pazienti che ne avranno necessità perché oltre all'infezione hanno una malattia verrà proposta la terapia e comunque tutti i pazienti verranno presi in carico. Il progetto si avverrà della collaborazione dell'Unità di Medicina Trasfusionale e del gruppo di laboratorio con i quali lavoreremo gomito a gomito giornalmente per identificare i pazienti a cui effettuare i test di secondo livello e per offrire a questi quando sarà necessaria la terapia del caso.